Edison ha concepito e progettato la fondazione EOS durante la prima fase del lockdown nella primavera del 2020 e l'ha fondata poi a gennaio 2021. EOS, la fondazione, deve il suo nome alla divinità dell'Aurora che fu condannata dagli dèi ad amare in eterno gli esseri umani. Quale miglior nome, quale miglior simbolo di rinascita e di senso di supporto verso la comunità nel cercare di condividere competenze, risorse ed energie. Oltre a sopportare le persone più fragili, le comunità più vulnerabili, la fondazione si impegna a sostenere gli enti del terzo settore in una crescita proprio strutturale, vuole aiutarli nelle loro capacità progettuali e nell'accesso ai finanziamenti. E poi soprattutto promuove una cultura di impresa che orienti le persone di Edison all'impatto sociale, a lavorare attraverso l'impatto sociale e a coinvolgersi direttamente nelle iniziative della fondazione, che nel prossimo triennio si dedicherà agli adolescenti che tanto hanno sofferto durante il lockdown nel loro percorso di crescita, sia dal punto di vista emotivo psicologico, sia della loro educazione. Grazie 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 Grazie